Si è riunita questo pomeriggio la prima conferenza dei sindaci dell'azienda sanitaria territoriale di Pesaro Urbino, nata dalla nuova legge regionale di riforma della sanità. Nella sala formazione dell'ospedale di Muraglia, i sindaci dei 50 comuni della provincia sono stati chiamati a votare il presidente della conferenza, chiamato a fare da catalizzatore in merito alle esigenze della sanità che immergono dalle varie amministrazioni comunali. Ad essere eletto presidente è stato il sindaco di Urbino Maurizio Gambini, nome fortemente caldeggiato dai sindaci di centrodestra, mentre come vicepresidente è stato eletto il sindaco di Monbaroccio Emanuele Petrucci, figura trasversale ad entrambe le controparti politiche. L'elezione è stata presieduta dal direttore generale dell'azienda sanitaria pesarese Alberto Carelli e da Stefano Pompei, sindaco di Tavoleto, in qualità di primo cittadino più anziano della provincia. Chiaramente mi fa molto piacere riassumere questo ruolo, io l'ho avuto dal 2014 al 2019 nella mia prima legislatura, un ruolo importante, ma non importante perché si decide qualcosa ma si organizzano i sindaci perché tutti i sindaci possano partecipare alla vita sul tema della sanità, delle riforme che fa la regione, dell'applicazione degli atti aziendali, di tutto quello che accade nel territorio in tema di sanità. Purtroppo negli ultimi cinque anni l'assemblea non è mai stata riunita da quando io ho perso la presidenza nel 2019, è un lavoro di coordinamento perché tutti i sindaci devono intervenire, devono poter sapere, capire tutto quello che accade a livello provinciale sul tema della sanità perché i sindaci che sono i primi responsabili della salute dei propri cittadini, devo conoscere tutti i passaggi e l'assemblea assume questo ruolo, ha questo ruolo. È un ruolo consultivo ma è chiaro che anche il legislatore contro i sindaci e quindi contro il territorio, contro la gente non può andare. Quindi è un ruolo molto importante ma non come presidenza ma come assemblea dei sindaci. Io cercherò di fare il lavoro al meglio, di coordinamento, di riunire i sindaci sui temi che riguardano appunto i temi della sanità. Io ringrazio la trasversalità che ha puntato sul mio nome, ringrazio il senatore Ucchielli nonché il presidente Paolini che hanno proposto il mio nome alla presidenza, ringrazio il centrodestra che mi ha proposto come vicepresidente di questa importante conferenza. Ho deciso di essere l'elemento trasversale cercando di essere un'unione delle due parti, delle due componenti politiche nell'ottica di una trasversalità, sapendo che la sanità non si misura sui colori ma si misura sugli atti e sugli attività che ogni giorno noi sindaci dovremmo fare. E questo è l'obiettivo, spronare i sindaci affinché svolgano il loro lavoro all'interno di questa importante conferenza ma anche naturalmente nel percorso territoriale che ogni giorno ci vede coinvolti. Le prime proposte come dicevo poc'anzi erano quelle delle formazioni dell'organismo di rappresentanza, elemento importante che esce dai distretti, quello che è l'approvazione del regolamento ma soprattutto andare a lavorare con la regione per quello che è un riequilibrio dei posti letto, cercare di ridurre la mobilità passiva e lavorare sulle liste d'attesa, non che su tutte quelle che sono le strutture che stanno emergendo in provincia di Pesaro Urbino e non solo.